Sono capace di coprire parecchi ruoli in questa mia giovane carriera. Le caratteristiche sono la corsa, il sacrificio, mi piace aiutare i compagni in campo. È un investimento importante fatto dalla società. Credono in pieno in me, o al meglio me l'hanno dimostrato fin da subito. Io nella mia carriera ho dato sempre il massimo. Appena uscito dalla primavera sono andato a giocare in Serie C e col sacrificio e col lavoro duro sono passato prima in Serie B e ora mi trovo in Serie A. Quindi non sono disposto a fermarmi, cercherò sempre di andare oltre i miei limiti. Sicuramente passano per Bologna, far bene a Bologna. Poi dovesse arrivare una chiamata in nazionale e questo ci ha fatto capire che comunque Bologna e la società di Bologna ci crede sulle mie potenzialità.